Una bufera giudiziaria sta per abbattersi sul mondo della sanità della parte meridionale della provincia di Salerno, quella parte del territorio che un tempo ricadeva nell'ambito dell'ASL Salerno 3. La notizia è riportata in primo piano questa mattina sul sito Agenda Politica. Le indagini, si legge sul sito, sono coordinate e condotte dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e riguardano alcuni imprenditori della sanità privata, proprietari di note e frequentate cliniche private e alcuni funzionari dell'ex ASL Salerno 3. I capi di imputazione sono diversi ma ruotano attorno al rinnovo di convenzioni tra la clinica in questione e la regione Campania. I nomi coinvolti nell'indagine sono altisonanti e nei prossimi giorni si conosceranno nel dettaglio anche tutti i nomi degli imputati. Pare infatti che in base agli elementi di prova raccolti nella fase delle indagini, cominciate nel lontano 2006, la Procura Vallese abbia presentato la richiesta di un rinvio a giudizio per decreto nei confronti delle persone coinvolte nella procedura. Tra gli imputati ci sarebbero anche l'allora direttore amministrativo dell'ex ASL Salerno 3 e l'amministratore unico della clinica privata.